Oggi è una bella giornata, non solo meteorologicamente, perché Villafondi è un posto bellissimo che conosciamo tutti e di cui tutti possiamo sempre godere. Mancava una chicca che era un punto di storo che potesse servire a completare il tutto e oltre a camminare per Villafondi si può sedere a un bar e prendere qualcosa di fresco quando fa caldo o prendere qualcosa di caldo quando fa caldo. Quindi siamo particolarmente contenti di essere qui oggi, auguro ai ragazzi veramente di poter fare bene, perché fare bene, se fanno bene loro per loro, fanno bene a noi e fanno bene a tutta la città. Grazie e auguri alle gare. Grazie a tutti. Siamo tutti qua di qua, vedi? Siamo tutti qua. Speriamo di questa ventura. Auguri, auguri. Grazie. 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 Grazie a tutti. anche il sindaco dovrebbe abbracciare